Sai lavorare un parcheggio, non è fa la guardia. Fa la guardia un parcheggio. Grazie Gesù per averci adottate nella tua vita. Come ti chiami? Agnese. Stefan. Gesù è come il navigatore della macchina. Ricalcola il percorso. Vi riporta sempre a casa. Il Festival di Cannes, l'emozionante incontro di due mondi opposti. Io voglio rimanere pura. Tu sei pura. Cuori puri. Al cinema. Al cinema.